ebbene sì ragazzi il sogno di noi pescatori il regno dei barracuda il regno delle bestie dei giganti questo ragazzi è di otto chili vi rendete conto otto chili e la cattura è stata incredibile ma come incredibile tutte le catture fatte qui con i barracuda e che dire andiamo a vederli questa è stata un'annata speciale sulla caccia dei barracuda perché ne abbiamo presi veramente tanti in questo video ho voluto raccogliere le catture più belle questa sequenza di caccia sono quasi nascosto tra i sassi e davanti a me ho una mangianza incredibile il che ovviamente mi fa ben sperare sono lì che mi guardo attorno cerco di leggere la la mangianza perché quando questa si apre o si abbassa vuol dire che sta arrivando un barracuda non li vedo particolarmente tesi però mi accorgo che da molto molto distante sta arrivando un barracuda si avvicina sempre di più sempre di più sempre di più ignaro della mia presenza mi stacco da terra in quel momento si accorge di me sparo subito anche se distante ma lo centro in pieno questa sequenza scendo giù molto lentamente perché vedo davanti a me un branco di barracuda quando sono in tanti bisogna star molto attenti a non spaventarli perché se scappa uno fuggono tutti e magari attorno a loro c'è qualcuno di grosso e spaventiamo anche lui quindi scendo lento mi soffermo a guardarli perché non ho intenzione di sparare a questi ma vedo che distante a me c'è un'ombra di uno grosso cerco di spostarmi lentamente sperando che si avvicini lui i barracuda si accorgono di me e si separa il gruppo in questo momento sono incerto se salire o aspettare sperando che si avvicini il grosso il fiato ovviamente purtroppo sta diminuendo quindi decido di risalire prendere fiato molto velocemente e cercare di avvicinarmi al grosso e colpirlo dall'alto verso in basso in questa particolare situazione bisogna star molto attenti a non far rumore bisogna risalire lentamente senza creare il minimo disturbo respirare velocemente senza far rumore e scendere giù di nuovo cercando di arrivare verticale sul pesce la posizione in caduta è ottima perché lui non si sta accorgendo di me riesco ad arrivargli vicino, sparo, lo prendo in testa e muore sul colpo è stato un tiro molto preciso perché gli ho spezzato la colonna vertebrale bene dopo aver assicurato il barracuda al pallone e mi raccomando qui alle canarie non tenetevi mai il pesce addosso scendo giù lentamente e mi trovo davanti a un branco che mi sta passando sotto senza spaventarlo mi lascio scivolare sul fondo in maniera tale da attaccarli dal basso verso l'alto una volta superato il gruppo cerco di arrivare sul fondo e mi fermo un attimino perché con la mia discesa posso aver spaventato la mangianza e di riflesso spaventare il gruppo di barracuda vedo che è tutto tranquillo per cui alzo prima il fucile un pochino verso l'alto in maniera tale da evitare che un brandenjo all'ultimo momento spaventi i pesci e piano piano aiutandomi con la mano sinistra mi avvicino sempre di più al gruppo cercando avvicinandomi di individuare quello più grosso si accorgono di me e iniziano a scappare quindi è un tiro in corsa sparo e ne prendo due ragazzi ovviamente il secondo non era assolutamente cercato anche perché poveretto tirandolo su visto che era piccolo però cavoli un tiro lunghissimo ho passato bene il primo e il secondo l'ho preso negli occhi in pieno centro questa è una bellissima sequenza se vedete c'è una lingua di sabbia e dall'alto vedo dei salmonette che sono le nostre triglie sono molto grandi e si vedono dall'alto sono 6-7 etti circa ciascuna scendo giù lentamente cercando di prenderne una che sono tra l'altro molto buone e mi apposto però il fucile è stracarico quindi devo trovare il giusto colpo per non rovinare l'asta uno dei prossimi video li dedicheremo proprio ai salmonette a queste triglie giganti e c'è un punto del mare qui a Fortaventura dove è pieno zeppo c'è da divertirsi e in quel momento giro la testa e vedo da distante arrivare un barracuda ovviamente mollo tutto inizio a girarmi e lo vedete? è lì in fondo in fondo in fondo lui si avvicina ignaro probabilmente è stato attirato dal rumore che stavo facendo sul fondo si avvicina sempre di più però in questo momento si allontana allora tento il tiro lo stesso il colpo guardate è arrivo a fine corsa e ho tre giri di sagola non c'è niente a che dire ragazzi i fucili della FT Sub di Fabio Trappella sono uno spettacolo della natura perché arrivare a una distanza del genere e andare a segno così non c'è storia vista la distanza avevo mirato alto e se guardate dove è stato colpito non si è abbassato minimamente quindi il fucile ha molta potenza anche sulla distanza sono stato molto fortunato a tenerlo siamo giunti al Big One il barracuda di 8 kg dentro ragazzi aveva la bottarga di 1 kg in questo tuffo ve lo giuro non me l'aspettavo sono sincero ero lì in relax quasi a fine giornata sto scendendo molto lentamente mi posiziono ma proprio in relax ormai il bottino c'era vedo la mangianza e se notate si sta spostando a destra e sinistra a destra e sinistra e lì indica che c'è qualcosa lì indica che sta arrivando qualcosa perché non sono sereni e tranquilli fermi sul fondo io mi guardo ovviamente attorno cerco di nascondermi in maniera tale da non farmi cogliere impreparato se c'è qualche barracuda che mi passa vicino e però non scorgo nulla ma la mangianza è nervosa mi guardo attorno e tutto un momento ragazzi mi arriva il bestione riesco a staccarmi dal fondo e avvicinarmi a lui e far partire il colpo con precisione mi rendo conto che è molto grosso per cui prima di iniziare il recupero lo lascio stancare sul fondo perché i suoi denti sono molto temibili e affilati appena lo recupero cerco subito di ucciderlo passando con il coltello dietro le branchie arrivando alla base del cervello è un punto nevralgico dove basta un colpo secco per ucciderlo se vedete esce subito il sangue e muore sul colpo ragazzi la gioia è incredibile perché ho preso barracuda di 5 kg 6 kg 1 ma 8 kg farà proprio la differenza è grande come me sono veramente stra felice perché è una cosa che non capita sicuramente tutti i giorni come sempre grazie per aver seguito questo video fino alla fine e vi invito a partecipare alle attività del nostro club per qualsiasi informazione scrivete al numero sovraimpresso e vi invito a farlo a farlo a farlo a farlo Grazie a tutti.